Trageda durante una partita di calcetto, Francesco Del Cuore, disegnatore e scultore che creava con una penna sfera dei capolavori su carte ed era conosciuto come ciccio artist durante la partita tra amici si è sentito male e si è accasciato a terra. Immediato il massaggio cardiaco dopo l'arrivo del 118 ma per il 37enne non c'è stato nulla da fare. I suoi disegni variavano tra lo stile dell'espressionismo, surrealismo e arte moderna e venivano quotidianamente resi pubblici sulla sua pagina Instagram che conta la bellezza di 13.000 followers.